buongiorno amici sportivi e benvenuti a sarnese nola italiana mette in mezzo di sinistra di palma attraversa di di palma vicino al gol la sarnese fa ancora un cross di italia per figlia d'italia ma lì ancora danni a prossimo del giro di vacca per figlia lì a figlia lì alla sarnese va in vantaggio con simone figlia ma c'era ancora figlia che recupera il pallone figlia e solo davanti a lino figlia sinistra rete 2 a 0 per la sarnese simone figlia lì ancora lui doppietta per il giocatore granata attenzione nola questo adesso da fuori aria che sfiora il palo e va sul fondo pericolo per la sarnese lancio lungo di cirillo a cercare figlia lì a attacco per vacca se ne vacca mette in mezzo per di palma di palma e solidaria di palma di palma non sbaglia e la sarnese va sulle 3 a 0 3 a 0 per la sarnese se ne ancora questo cross in mezzo per figlia li ha ancora figlia li ha il pallone rimane di venere al pallone ancora figlia sinistro ancora figlia triplet 4 a 0 per la sarnese in grande giornata i giocatori granata attenzione a questo faccio d'angolo cross in mezzo c'è definizio definizio 5 a 0 per la sarnese un primo tempo straordinario per i ragazzi di mister esposito finisce qui il primo tempo sarnese 5 nola 0 dominio dei granata si riparte col secondo tempo con nola che attacca un'azione da calcio d'angolo attenzione alla cross in mezzo respinto da cacciottolo vizzo spazio in avanti attenzione la palla però arriva a simonetti simonetti si gira calcio col sinistro 5 a 1 gol di nola gol della squadra bianco nera con simonetti attenzione arriva anche il gol del 52 non ripreso per problemi tecnici no la quindi accorcia ancora le distanze sarnese 5 nola 2 attenzione a questo lancio lungo ancora per simonetti ancora simonetti ed è tripletta tripletta dell'ex granata incredibile accorcia ancora le distanze nola simonetti attenzione però questa palla per io mazzo io mazzo può segnare il 6 a 3 ancora io mazzo solo davanti al portiere ma viene parato questo tiro è destinato in calcio d'angolo ultimo possesso per nola ma finisce qui la sarnese batte 5 a 3 nola nel suo ultimo test amichevole ottima prova dei ragazzi di mister esposito una grandissima partita di granata una grandissima partita di simone figlia via dalla felice squidiere è tutto attenzione a tutti Grazie a tutti.